Sera al turno e benvenuto su questa nuova puntata di Splasher, ancora non l'ho finita Cominciamo subito con il livello 20 e già che ho visto i laser sarà qualcosa di assurdo Anche se io già l'ho fatto questo video, quindi oddio sarà massacrante Non ho bisogno di salvare le persone, io lo ricordo sempre, con calma Perché l'ho già fatto e non ho intenzione di farlo perché ci ho impiegato molto tempo Ecco così, ecco così Spero che la mia voce si senta bene questa volta perché ho fatto due video e non mi ha convinto Non sono molto soddisfatto dell'audio E succede, succede Andiamo con calma Buono? Ottimo, dovevo farlo prima però Mi cago in mano quando sento quel rumore Tu 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 Sei uno stronzo Ok Sei una persona molto cattiva Mamma mia il dolore Il giovane weather Checkpoint senza morire Mi sembra una cosa molto positiva per me Molto Molto positiva Devo capire un po' la situazione quando vado qui però Checkpoint Questo checkpoint Cioè Raga Ma è Ma è Mi conviene passa sotto o mi passa sopra Mi conviene passa qua Lo sapevo che mi porti sfiga di mortasci qua Bloccate Buono Mi conveniva passare qui C'è la famo? Molto 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 Bel E dai Quanto mi stanno sul cazzo i giochi che non ti danno il tempo di riflettere Tipo questo Muori male Sono una persona No 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 nio Che morte stupida Questa è una morte stupida Mi dicevano che non esistevano le morti stupide A quanto pare io so farle So farle E poi chi ha detto che non esistono le morti stupide Cioè è un'affermazione stupida effettivamente Oddio tutta colpa di quel bastardo Mi sono salvato con il rotto della cuffia Non mi interessa io non ve lo salvo Ve ho detto che non salvavo nessun'altra persona Ve l'ho detto E io lo faccio Salvo nessun'altra Stavo super stragro Incentrato e muoio così in questo Buono No buono Beh ho salvato una persona regà Ho salvato una persona Siete contenti Non ci arrivo Non ci arrivo regà Non ci arrivo Siete contenti L'ho fatto L'ho fatto Adesso non mi dovete rompere le scabasisi Perché magari Io sono una persona Oh ce l'ho fatta Oh ce l'ho fatta Silenzio Applauso Silenzio Perché dico le cose A caso Non ho il bisogno di dare spiegazioni a nessuno Mamma mia Ciao E abbiamo completato il livello E un livello è completato Adesso devo andare a cercare il 21 E poi il 22 sarà la fine Eccoci qua al 21 Mentre giravo mi sono accorto che io non ho preso tipo altri tot splasher Ho lasciato un livello incompleto Quindi prima di arrivare all'ultimo livello avrò preso anche quel livello Avrò salvato tutti gli splasher Tutta la mia azienda sarà nelle mie mani Apocalink now Oh mio dio non ho mai letto i nomi E forse ho fatto sbagliato Allora questo era il livello del dolore mi pare Anonimo Anonimo E una volta era Geronimo Ma come funziona così Anonimo Zompazomazomazomazomazomazomazibalar Non mi dite che non sono migliorato eh Rispetto a tanto tempo fa Agli inizi Possiamo notare un piccolo netto Un miglioramento Proprio Il fatto che non Non sbraito Il fatto che so Vado in tempo con l'atmosfera io Non sai quanto tempo ci ho voluto Ci ho messo Per recuperare quelle Quell'esperienza Non potete neanche immaginare Manco immaginare Manco immaginare Totte check point Ti sento a morire Oh ma che bello Ma che bello Freschetto Ma perché io ce sto andando pure caudo eh Questo l'ho ripetuto un po' di volte per salvarlo Ah era easy Tanto mo' ci muoio Beh invece E invece no E invece no Grande festa di null No invece ci potrei morire qua Ci potrei morire Non dico che ci muoio Ma ci potrei morire Effettivamente Ci potrei Ho detto Non ho detto che ci voglio morire E invece no E invece no Abbiamo preso il check point Abbiamo preso Oh check point Fresco fresco Sciallo sciallo Ero tanto contento Ah che carino Quando muore Non io Vai Saltino Vai Salta Salta Qui dobbiamo andare a caudi Perché me lo ricordo Cerca di farmelo una volta Tutte le corse È stato un massacro Ah davvero è stato un massacro eh Lo dico subito Pure questo è stato un massacro Bella Bella per voi Io me do Preso check point Oh 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 check point Corri Corri Andava Andava così Non doveva finire in questo stupido modo Stupido stupido modo Cioè devo fare una canzone Stupido stupido modo Corri Corri Buono buono Questo video è basato sul correre Mamma mia che tempismo Ragazzi 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 Mi ricordo che questo era un massacro Che dovevo fare questo E morire Proprio per un pelo Per un pelo No così Grazie a tutti Ciao a tutti È facile Sì, cazzo Sì, sì, cazzo Mo' corremo Questo è un livello facile, ma è tanto per far figo No, per guardarmi Oh mio, Dio Sono un vanidoso del cazzo Per vedere come andava Ah, qui andava salvato a tempo, proprio no, eh Non ve lo faccio un'altra volta Però ce l'ho fatta, sappiatelo È tutto basato sul tempismo, il mio culo È proprio una fortuna sfacciata Proprio una fortuna sfacciata Sto facendo forse anche meno errori Mamma mamma, dimmelo che mi avete visto azzoppato Ma questo è uno Di quei pezzi che non mi è piaciuto Che vi stava a dire nello scorso episodio Mi pare È proprio Un team di ricercatori Cosa è detta a cazzo Durante i livelli Chirurgici Aha Ed è così che doveva andare a finire Ed era Mi spara? Ed è così che doveva andare a fine Con me Che superava il livello Certo Sarebbe stato figo Se avresti visto tutte le persone salvate Ma Ehi Questo E questo rimane Ok Ho fatto meno sghiari possibili Andiamo a vedere Adesso vi faccio vedere cosa ci aspetta Per l'ultimo livello Durerà un po' di meno Però Cercheremo di accontentarci Vero ragazzotti? Vero? Che poi fate rimanche con cazzotti Quindi Per questa battuta potresti anche picchiarmi Ve lo consento Ve lo consento Sparo qui Salgo su E andiamo Ciuuu Va 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 giù Ok Guarda che spettacolo Cioè io guardo Guardo De là E questo È l'intro Del Ventiduesimo livello Dove affronteremo Il boss Cazzo Finalmente mi toglierò dalle palle Questo gioco Della minchia Anche se poi Ci sono anche Time attack Dove devi fare I risultati a tempo E Non mi ricordo C'è anche una sezione Nascosta Dove Che si sblocca Soltanto quando avrò 154 Lutti di splasher E andremo a vederlo Appena lo avrò fatto Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Fatemi sapere cosa ne pensate Noi ci vediamo Per il prossimo video Bye